nell'aria millenni di rumori e di miasmi tocca cambiarla all'atmosfera terrestre o ripulirla tutta e un rene malato di umanità le occorre una dialisi io sto lì che mi becco il sole e le memorie dell'aria dove nessun rumore nessun miasma si dissolve pare sempre che le esplosioni le urla le sirene le musiche si dissolvano ma invece no restano nell'aria vecchie di anni di secoli inestinguibili il problema non è nel fuoco che disinfetta o nella terra che non tradisce e nemmeno nell'acqua ci sono un mucchio di sistemi per tenerla sotto controllo e nel miscuglio gassoso insapore e inodore essenzialmente composto da azoto e idrogeno il problema l'aria è infetta tradisce non la tieni sotto controllo e nell'aria il fallimento degli umani